Aspettiamo che il governo decida, è un anno che noi gli mandiamo FAQ continui spiegando quali sono le motivazioni di questa incongruenza. Un negozio in un centro commerciale, faccio un esempio, uno dei nostri associati, all'entrata della porta c'è scritto al massimo 4 persone, davanti c'è il supermercato dove dentro ci sono centinaia di persone che sono assembrate come è successo due sabati fa, non dico in quale centro commerciale perché le casse erano poche, questo non ha senso, continuiamo a dirgli che non ha senso e io ricordo soltanto il periodo natalizio che è stato devastante perché il prefestivo e il festivo, l'elotto di dicembre, per 4 giorni i negozi all'interno del centro commerciale sono stati chiusi, nel momento topico in cui un'attività incamera quell'ossigeno necessario per vivere e tu non gli dai l'opportunità di vivere. Questa è la dimostrazione di politici che non hanno la benché minima idea di come funziona il mondo reale.